... Fermatevi, incoraggio a continuare i negoziati, per ogni immediato cessate il fuoco. A Gaza e a tutta la regione, affinché gli ostaggi siano subito liberati e tornino dai loro cari che li aspettano con ansia e la popolazione civile possa avere accesso sicuro ai dovuti e adegenti atti umanitari.